Benvenuti, siamo con il professor Sibilio, ordinario di pedagogia e didattica speciale, prorettore vedeticario dell'Università di Salerno. Benvenuto, professore. Grazie. Professor Sibilio, cosa la spinta ad approfondire il concetto di semplessità in chiave educativa? Quale spinta ad agire il cambiamento? Allora, la semplessità è un paradigma promosso dalla ricerca del professor Alain Bertoz, che è un fisiologo che si occupa di studi sull'azione, sull'anticipazione probabilistica, sui processi di inibizione, che ha proposto questo paradigma in alcuni campi di ricerca come quello dell'architettura, della retorica e che ha toccato anche il dominio delle scienze e dell'educazione, in particolare della pedagogia e della didattica. L'elemento di originalità e di fruibilità del paradigma è che la semplessità parte dall'elemento interconnesso, sistemico, della complessità, nella quale la nostra vita è immersa, è immersa nella quotidianità dei problemi, nelle attività istituzionali, nelle nostre professioni, nelle nostre azioni. Il tentativo, attraverso la proposta di Bertoz, non è di superare il significato profondo di complessità, ma di avviare un processo di navigazione della complessità che consenta di decifrare la complessità, di fronteggiarla e superarla. E in questo percorso c'è una sorta di semplificazione della complessità che attraverso l'azione diventa la strada di navigazione di questo groviglio che quotidianamente si riferisce alla nostra vita, ai problemi che incontriamo. Sul piano educativo e formativo la semplessità guarda all'esperienza formativa ed educativa come un luogo della complessità, dell'interconnessione, un luogo nel quale operano entità biologiche, entità culturali, entità di carattere fisico, quindi di carattere materiale, ma anche di tipo immateriale. Pensiamo all'attualità che ci porta a guardare con interesse tutto il mondo del digitale. Ecco, la formazione e in questo senso la funzione dell'insegnamento, le modalità di apprendimento sono parte di questa complessità e Bertoz ci dà una grande suggestione, riportandoci ad osservare quali sono nella nostra struttura biologica e culturale, nel genere umano, quei processi profondi che ci appartengono, quelle funzioni adattive, così flessibili che hanno accompagnato la nostra evoluzione, la nostra esistenza. Queste funzioni Bertoz le definisce principi e poi queste funzioni per poter operare e superare la complessità si muovono adottando delle regole semplici. Queste regole semplici e queste funzioni sono applicabili anche nel campo della formazione, dell'insegnamento e dell'apprendimento e più in generale sono un patrimonio a disposizione dei processi educativi. Ecco, a tal proposito vorrei sottolineare l'importanza del dialogo tra i saperi e di come sia importante il ruolo di natura e cultura, in quella che oggi è un po' la visione epigenetica. Ma la frammentazione che abbiamo oggi del sapere, anche a livello scolastico tra materie, come si intugnava anche Moren, può essere un limite ad una visione complessiva dello sviluppo della persona e di conseguenza di un giusto approccio educativo? Sì, il tema è riconoscere che i domini scientifici sono una costruzione umana che consente a noi tutti di dare ordine alla nostra conoscenza, di dare ordine e regolarità alle esperienze che facciamo, di trarre dalle esperienze degli elementi riutilizzabili, di riflettere sulle ragioni del mondo, sul perché esiste il genere umano, qual è il suo destino all'interno di un più ampio ecosistema. Rispetto a questo, la semplessità ci richiama, in ambito educativo e formativo, a un rapporto necessario fra le scienze umane e le scienze della natura. Cioè un rapporto che apra un dialogo costruttivo fra scienze che appaiono antagoniste qualche volta, se invece sono assolutamente complementari, utili. Quindi studiare l'apprendimento di un bambino richiede anche la conoscenza della sua evoluzione, delle tappe oclusologiche, dell'alternanza che si accompagna alla crescita e allo sviluppo. Significa conoscerne i meccanismi cognitivi, significa conoscerne gli aspetti metabolici. Non si può ridurre la conoscenza del bambino ad un solo dominio. Quindi anche i saperi pedagogici, quelli didattici, debbano guardare con grande interesse alle scienze della natura. Devo dire che prima di Bertos questo approccio è stato di Maria Montessori, che da medico poi ha costruito attraverso la sua pratica delle teorie dell'educazione che hanno oggi una grandissima attualità, dalla sua sensibilità scientifica si è spostata in quella educativa con risultati straordinari. È stata una delle donne più conosciute al mondo, una scienziata che ha inaugurato attraverso la possibilità di riunire le persone che formavano il senso stesso della scuola, dell'accademia, insomma il grande significato del confronto. Nello stesso tempo più recentemente Elisa Fraunfeld, la mia maestra, con l'approccio bioeducativo è andata in questa stessa direzione. Naturalmente a fianco a lei altri hanno avuto un interesse specifico per il rapporto tra queste scienze, cioè le scienze umane, le scienze della natura, la pedagogia e la biologia. Un altro nome importante della ricerca italiana è quello di Raffaele Laporta. Più recentemente l'incontro della bioeducazione, di quella traccia con la semplessità, ci porta a continuare ad aprire questo dialogo e alimentarlo, anche perché lo specialismo spesso produce delle resistenze negli approcci cognitivi, cioè ci porta ad avere una visione lineare, questo è il rischio dell'apprendimento, della soluzione dei problemi. Dobbiamo avere la consapevolezza che molto spesso non siamo di fronte a un rapporto lineare fra il problema e la soluzione, molto spesso dobbiamo ricercare per lo stesso problema più soluzioni, perché le soluzioni dipendono anche da una serie di interconnessioni che non sempre sono prevedibili quando immaginiamo la risposta al problema. Quindi la didattica deve guardare al suo impegno un po' come quello dell'approccio clinico. Un medico che fa un primo soccorso mentre agisce fa la sua parte diagnostica e poi ricomincia dalla parte diagnostica per modificare la sua azione, quindi interviene immediatamente, non ha il tempo il clinico per fare una diagnostica lunga in alcune circostanze. Salva la vita di un paziente in questo intervento che ha anche diagnostico, non è un intervento di carattere soltanto risolutivo, di tipo clinico. E la didattica è chiamata ad operare immediatamente, già il primo giorno di scuola quando un docente si trova di fronte a una classe e si trova in una classe che poi è un fenomeno caotico, è chiamata ad intervenire pur conoscendo piuttosto superficialmente gli elementi emergenti e mentre agisce opera la conoscenza della sua classe, mentre opera la conoscenza della sua classe gli definisce l'azione. Ecco, qui il senso è anche questo, che l'azione è diagnostica, è prognostica, è anticipatoria, è la chiave di una nostra caratteristica, quella del genere umano, di avere la possibilità di svolgere in forma anche, come dire, complessa delle azioni in grado poi di semplificare il rapporto che c'è fra il nostro genere umano, la persona e il problema, compresi quelli legati all'apprendimento. Vorrei partire proprio da questa sua ultima informazione sull'azione. Lei nel suo libro afferma che il cuore della visione semplessa in relazione all'essere umano e nel valore dell'azione, nella sua capacità di essere fondamentale e risolutiva anche in assenza di un quadro dettagliato di situazioni problematiche che siamo chiamati a affrontare, come ci ho appena detto. Ci spiega a questo punto quanto è importante agire e come si sviluppa in una società come quella di oggi dell'on-life, immersa tra reale e virtuale? L'azione è l'elemento che caratterizza il rapporto fra le nostre sensazioni, le nostre percezioni, la nostra cognizione, quindi non può essere categorizzata come un elemento che si distingue dall'insieme delle opportunità che ci sono date dall'interazione con il mondo. È un'attività di scopo che nell'ambito dell'insegnamento è mirata a facilitare l'altrui apprendimento, lo può fare in una forma sincronica o lo può fare in una forma diacronica, ma richiede costantemente questo processo di interazione. L'azione però non è spesso capace di tradurre il dichiarato, l'elemento che rappresentiamo come la nostra volontà di agire con quello che facciamo realmente. Questo accade perché nell'ambito anche della formazione delle competenze didattiche, quindi nei modelli di formazione insegnante che si sono avvicendati e che hanno trovato poi alcuni approdi che io ritengo essere molto importanti, come quello di formazione primaria, che ha costruito un percorso di cinque anni affinché ci fosse un lungo periodo di formazione. Però formazione primaria ha il punto di qualità di questa esperienza formativa e aver configurato la formazione come una struttura proteiforme, l'insegnamento in aula, il laboratorio come luogo del fare, dell'agire, del progettare, il tirocinio diretto e indiretto. La formazione delle competenze didattiche richiedono una struttura proteiforme, non possono avvenire esclusivamente attraverso l'esperienza d'aula, ma sono la somma di molte esperienze nelle quali l'elemento teorico deve misurarsi con la capacità del docente di agire quella teoria. Agire una teoria non è un processo lineare, posso studiare ed essere in grado di rappresentare ad altri i contenuti di un modello teorico, ma posso essere poi inadeguato nell'azione nel quale devo declinare il modello teorico nell'insegnamento. Allora, qual è la prospettiva? Quella di avviare un esercizio che aiuti il passaggio dal sistema teorico all'azione didattica. Ricordiamoci, è un'azione specializzata, non è un'azione come le altre, ha bisogno di favorire negli altri il processo di apprendimento, di sostenerlo, di accompagnarlo e quindi ha bisogno di una declinazione che che definiva il passaggio dal nostro sapere, il sapere sapiente, al sapere insegnato per poi arrivare al sapere appreso. Il sapere insegnato è un'elaborazione di quello che conosciamo e la nostra azione non è sempre preparata a svolgere questa funzione. Ad ora c'è bisogno di una formazione che abbia anche la possibilità di fare un esercizio metacognitivo. Ecco, la semplessità come paradigma applicato alla didattica lavora sull'esercizio metacognitivo cercando di esercitare discenti e docenti sulla possibilità di utilizzare delle funzioni che sono fondamentali e che spesso noi troviamo esplodere nel campo della disabilità. La disabilità visiva, quella uditiva, sono il campo di massima espressione di questo potenziale perché grazie a una condizione che appare legarsi a un deficit c'è la possibilità di esplodere delle funzioni vicarianti che poi sono un patrimonio a disposizione di ognuno di noi. Ecco, la lezione che ci dà la disabilità deve essere recepita più in generale nella didattica. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Molti autori, tra cui Ken Robinson e Susan Langer, hanno affermato che un aspetto importante dell'educazione è quello di portare i discendi a formulare nuove domande per aprire differenti orizzonti. Lei ha scritto che la semplessità è una postura della mente che implica una sfida evolutiva, la stessa indicata da Gallima con il percorrere i sentieri mai battuti. Come si può realizzare una scuola che sviluppi la creatività e il pensiero divergente? Ecco, diciamo, il pensiero divergente, il pensiero laterale che oggi, come dire, è attenzionato per questo lavoro di Edward Ebono, che è stato poi posto all'attenzione di tanti contesti, compreso quello formativo, ci riporta a un'idea di evoluzione sulla quale dobbiamo aprire una riflessione. C'è un linguista, Derek Binkerman, che quando paragona sul piano linguistico, diciamo, una teoria che presuppone l'innatismo e un'altra invece che presuppone l'empirismo, ci dà una terza via. La terza via è che il nostro genere umano non abbia scelto la strada più facile nella sua evoluzione, ma abbia voluto lanciare una sfida evolutiva che consente oggi di avere nel genere umano l'unica specie in grado di costruire il mondo che abita, di modificarlo, qualche volta di non farlo nella maniera più opportuna, ma comunque di poter evolvere e nel corso del tempo aver prodotto un aumento della sua presenza sul pianeta che dà il senso di una sorta di particolare forma adattiva degli esseri umani. Ecco, questa forma adattiva speciale però necessita un po' di essere valorizzata anche nei contesti in cui dobbiamo operare. Nel campo del digitale in particolare, che è un mondo dell'immateriale che però molto spesso è capace anche di darci una materialità a cui non possiamo in qualche modo aspirare. Immaginiamo il grosso tema dei sussidi per la disabilità, quanto alcuni ambienti immersivi, semi immersivi possano dare un livello percettivo che va a simulare quello reale dando anche delle opportunità. Questo ci fa riflettere su come l'esercizio dell'azione è un esercizio che va posto contenendo in giusta considerazione tre livelli, quello biologico. L'azione si riferisce a noi ma anche ad altri esseri viventi che non sono soltanto quelli del genere umano. Quindi l'azione è comunque un livello di interazione che l'uomo fa con il mondo biologico. L'azione però è anche legata agli spazi fisici e come colloca la costruzione dei suoi artefatti nel mondo. Però l'azione è anche qualcosa che opera in un mondo rappresa e digitale che spesso simula una realtà riproponendo anche aspetti percettivi. Occhio, la sfida dell'azione, della semplessità è di riuscire a navigare avendo questi tre riferimenti di fronte. Su questo concluderei richiamando una ricerca che in qualche modo ha molto colpito gli studiosi negli ultimi anni che la ricerca sul coinoscene. Non è vero che il mondo costruito da noi è sempre costruito rispettando le previsioni che abbiamo fatto. Molto spesso non è così, l'abbiamo visto con la pandemia. La pandemia è stato un evento che ha cambiato le nostre abitudini, ha cambiato anche la nostra cultura, ci ha posto di fronte a delle condizioni sociali e qui non eravamo pronti. Ci ha portato a dover realizzare immediatamente una risposta di carattere clinico. Ma se noi riflettiamo, la risposta forte che ha saputo dare il genere umano alla pandemia non è stato solo clinico, ma è stata una risposta educativa. C'è avere responsabilità di se stessi e degli altri. Riconoscere il significato in alcune circostanze del distanziamento e degli spazi ha aiutato il genere umano a affrontare questa sfida enorme. Questo ci riporta quindi a immaginare che l'azione deve prepararsi all'imprevedibile. Si deve preparare all'imprevedibile nel campo della formazione, nel campo del lavoro, nel campo delle interazioni sociali. E come ci prepariamo all'imprevedibile? Ci prepariamo con una formazione dei nostri alunni, dei nostri giovani, della futura generazione, con una formazione anche dei docenti sul piano sia scolastico che universitario, ma in tutti i luoghi in cui si fa la formazione, esercitando noi stessi e gli altri ad un esercizio cognitivo che ci aiuti costantemente a cambiare punto di vista, a cambiare prospettiva, a mantenere un processo di flessibilità, ad utilizzare a pieno le nostre risorse, a cercare di costruire rispetto ai problemi che sono di fronte a noi, un inventario di soluzioni ricco che non ci porti a vivere solo nelle routine, ma essere pronti a mettere in gioco le risorse di cui siamo portatori. E questo, se noi andiamo a esaminare questo percorso, ci sono le radici dell'educazione. L'educazione è tirare fuori, ecco la semplessità in questa linea ci aiuta a tirar fuori le risorse e quindi l'insegnamento non è solo tirar fuori in questa prospettiva, è anche mettere dentro cosa? Il segno della nostra umanità, dei nostri valori, della nostra civiltà. E il punto di riferimento per l'educazione sicuramente è la nostra Costituzione, nella quale ritroviamo una sintesi culturale, troviamo i valori della nostra società, troviamo i valori del passato, del presente e del futuro. Grazie professor Sibiglio per essere stato con noi. Grazie a voi.